Buonasera a tutti, ragazzi, amici del canale di Youtube, a tutti appassionati di campani come me. Oggi fuori devo stare a un po' in personale, la mia concerto di 6 campani, infatti, adesso ascolto la Santa Messa del 18 e mezzo, di fronte a un po' faccio vedere, questi sono due campanoni, due benzane, la squenna e la piccola, adesso ascolto la Messa del 18 e mezzo, quindi a presto, guarda campanoni, ascolto a tutti, ciao! Questa che è la mia concerto? Ma no, 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 sì. Questa che è la mia concerto? 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 Che dire ragazzi, ora ho suonato due campanee, poi guardate quello di sotto il punto, guardate sul campanone, guardate la distessa del campanone, poi le ho risolto un quarto, distessa della minzana, poi ho semesso la melodia, la prima delle urde, a sei campanee, quindi ci si vede al prossimo video. Adesso ho fatto la distessa del campanone, deve aver risolto il punto, poi le ho risolto un quarto, ora distessa della minzana, e poi le ho risolto e mezzo, la melodia, la prima delle urde, a sei campanee. Quindi, ora partono, ora spoltevate il suo campanee, poi distessa il campanee, quindi, guardate questa sonata, ci senti dopo. A dopo! Poate manca la minuccia della quale partiglia! Non, ma si può essere un po' di fai, questo è un po' di fai. E' un po' di fai fai! E' un po' di fai! O, ma sono ancora una minucia. Ma, stai a mea! O, scusate, ma è che stai a mea. O, scusate, ma è che stai a mea, ma è stato un minucia. O, scusate, ma è stato un po' di domenica. Ecco, vintaccio dai. Vattie, vattie, scurcciano con noi. Qua sono due minuti Ecco lì Qua sono due minuti 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 Grazie a tutti. 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 Ciao.